Allora, il prossimo dazio invece lo diciamo ad un amico che un giorno Bruno gli fece anche una sorpresa, non pensavo che quel giorno sarebbe uscito così sul giornale, gli chiamano e disse ma che avete combinato tu e Bruno? E il nostro dazio è Manicchio Pammarone che da 10 anni resta al nostro pianto. Magari se il sindaco mi scherzi, resta anche lui da poco opportuniti. Siamo rimasti con il telefonino, ma noi siamo... No, non c'è problema, non c'è problema. Poi facciamo un po' un po' un po' c'è. Io vi ringrazio, perché io sia uno che partecipa in gestione. In cuore ci sono signori, poi in po' gli acciati, in po' le difficoltà, insomma, tu mi permetti di essere sempre presente. Anzi, quando prima dobbiamo premiare, io ho detto ma perché? Sì, però in realtà con Bruno c'è una partecipazione umana, non finisce mai. E poi c'è il fatto che abbiamo fatto delle canzoni insieme, ma se non possiamo farvele ascoltare. Però lo sono proprio quello che farò ascoltare a lui è un momento opportuno. E io, è un po' di tempo che non canto più, quindi sentite la voce, una volta era una voce. Adesso è una cosa poi, quindi... Ah va bene, il tempo della vecchiaia va vissuto anche in questo modo. Signori, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie. Grazie.